e bentrovati e bentornati un nuovo video di smite questo video parlamo di jungler o meglio di jungler il meta del jungler di Tisonova almeno il meta attualmente ma prima una piccola comunicazione del servizio vorrei tantissimo ringraziarvi a tutti a chiunque non ringrazio mai abbastanza credo le persone che mi iscrivono mi stanno dato la guida mi è strano per me perché sono abituato a essere totalmente ignorato oppure a essere all'inverso naturalmente insultato perché non so di che sto parlando quindi stranamente non so come definirlo però grazie comunque a chiunque comunque stia vedendo i video comunque scrive nei commenti mi stai dando la mano nonostante io rispondi non ho fatto niente di che perché alla fine è quello è il vero però grazie tantissimo riguardante tutto ciò perché non sono capace sono timido me ne metto il cappuccio un'altra cosa diciamo che questi video sono cambiate un pelo da solo dall'ultimo video ho cambiato diciamo la diciamo il meta del gioco del video più che altro nel video originale parlavo dei dei ruoli riguardante tipo ho fatto un video sui hunter ho visto fatto un video sui mage quando in realtà dovevo fare più che conveniva che facevo un video sui invece su un ruolo sulla classe sul ruolo della mappa di conquest quindi diciamo che è un po sbagliato il terzo video quello del solo infatti ho detto solo ma in realtà avrei dovuto parlare direttamente dei warrior ma siccome è un po complicata la faccenda preferito dividerli alla fine in base al ruolo ma alla fine la build che si usa su un determinato personaggio in quel ruolo può essere utilizzata anche al di fuori di la match della conquest della modalità di conquest no no detto ciò jungler o il meta che al momento diciamo che sta messo il meta il ruolo che sta messo un po meglio diciamo all'interno del del meta di season 9 più che altro riguardante la build diciamo perché al momento ancora la build i martelli o meglio il me il ramo gli strumenti tutti quelli strumenti che partono dal mace cioè dal martello no dal martello in realtà dalla mazza sono strumenti ancora molto più potenti e ancora non mi aspetto un nerf tra un paio di giorni probabilmente tra qualche patch perché probabilmente arriverà qualche assassin che li utilizzerà in maniera troppo eccessiva però al momento per quanto riguarda build e meta il jungle sta messo abbastanza bene rispetto ad altri ruoli pensando che tipo la stagione 8 prima mi ha stato inizio di stagione 8 stavano messi malissimo i jungler quindi il meta del jungle finalmente è tornato c'è in realtà da stagione 8 in poi hanno cominciato a dare un po di potenziali mentre già ma parliamo con cosa di solito disclaimer non sono un pro non sono un giocatore della madonna sono un giocatore sotto la media nemmeno perché sono un giocatore semplicemente che ha giocato tanto smite che veda anche professionisti quindi porta quello che può che vede si porta quello che vede al momento stanno anche giocando non in questo momento ma nel senso al momento del periodo stanno giocando cioè il challenger circuit cioè il circuito degli sfidanti che vuol dire sono quei giocatori quei gruppi di giocatori che sono o ex pro o che si sono sono usciti dal il coso ufficiale dal coso principale oppure giocatori che sono di livello altissimo tipo master cose così che vogliono andare in spia vogliono andare per i mondiali che hanno creato un team insieme a altri giocatori e vogliono partecipare ai mondiali il circuito dei challenger è questo praticamente fanno questo torneo interno dove ci sono queste squadre formate da questi giocatori i nomi sono un po a volte strani ma sono nomi che danno proprio ce li danno loro il team ce li danno proprio i giocatori e partecipano a farlo in questo torneo e al momento l'anno scorso cioè questa settimana questo fin che si giocano dal venerdì alla domenica si possono vedere i VOD cioè le partite intere sul canale ufficiale di youtube di smite VOD se siete curiosi di vedere anche il meta dove prendono informazioni magari guardatevele potrebbe aiutarvi anche a capire meglio alcune cose se siete disposti a perdere cioè a perdere tempo ma anche altro per dipendere un po del vostro tempo a vedere perché sono comunque partite abbastanza lunghe a volte a volte sono partite di 30 minuti perché ci mettono lì massacrano gli altri giocatori e si vengono massacrati proprio parliamo del jungle allora la jungle come già detto è uno dei ruoli probabilmente messi abbastanza bene all'interno del meta è un altro di quei ruoli come il solo lane che è assurdamente aperto cioè che non è detto che tutti gli assassini sono jungler o che fanno il meglio il jungler o viceversa non ci sono non è che tutti i jungler che ogni jungler deve essere un assassin per forza gli assassini sono fatti per essere diciamo per essere utilizzati alla fine sulla giungla come di il guardian di solito sono sempre i support però è alla fine siamo nel momento che siamo in un diciamo non siamo più nel meta di quando sia nel meta siamo nel smite di season cos'era 3 o 4 dove c'è veramente stavano ancora in cui un jungler è sempre un assassin e non esiste il fatto che il guardian sta di fuori del support e cose così ecco quindi non è non sono ogni personaggio non è più legato al suo proprio alla sua classe ma più che altro al ruolo che ricopre all'interno della mappa di conquest o cos'altro comunque dunque quali sono i jungler più utilizzati allora ovviamente partiamo dagli assassin velocemente potete giocare quello che vi pare sinceramente nei assassin sono abbastanza bilanciati ancora molti di loro ma ci sono alcune picche che sono sotto non vengono più toccati altri che vengono toccati molti e che vengono usati molti di più a rack ne rimane comunque un'ottima jungler dalla ranked probabilmente la trovate dalla ranked bronzo fino a pezzo mi ricordo se era gold o diamante poi lo vedrete altri giocatori a willis ancora ottima bagasura ancora ottima bastet sono facendo un momento piacere contento che sia tornata a essere giocata essere una pic molto molto più utilizzata cioè che ha molta gente la prende come personaggio perché finalmente grazie a solo il work che gli hanno fatto gli hanno dato un po di gioia è un personaggio che mi piace abbastanza non lo so sono solo io non so capace a giungla più che altro che amazon è stato nerfato pesantemente perché era veramente op probabilmente è successa la solita storia che un personaggio è talmente op che gli danno quella mazzata enorme di nerf che l'hanno reso meno mato mentale quindi non si sa che fine abbia fatto però è ancora viabile secondo me c'è ancora una sostegna enorme e può anche andare in solo tranquillamente clina è ancora molto utile ancora molto potente i nerf l'hanno fatta bilanciata un po meglio e la build attuale la rende la meta attuale lo rende ancora mostruosa daci una priority picca assurda il ulti che c'è ancora buonissima ma ancora giocata va giocatissima io la uso spesso solo che sono incapace di utilizzare la ulti perché col controllo col cercare di colpire con gli affari è impossibile posso assicurare ferrir tra un po' arriveranno ci stato quel nel mio nerf per quanto riguarda la protezione in parte dei ulti non ci deve stare ancora non mi ricordo se diciamo che nel circuito channel stanno giocando con la patch della 9.2 non della 9.2 update stanno con la patch indietro praticamente quindi non so se non mi ricordo se c'è stato già nerf oppure no basta vedere probabilmente le abilità però comunque rimane comunque un personaggio sì ok no guadagno protezione non gli hanno fatto il nerf però rimane comunque un personaggio molto potente specialmente se è buildato da anni oppure potesse anche giocare support un buzz è caduto molto c'è ancora però quella ulti che è una rompiscatole è giocato bene massacra cali bellissimo mi piace anche benissimo personaggio tende però avere bisogno di avere il tempo di farmare quindi state attenti lochi dopo le work è diventato una safety pick molto comoda se giocato proprio bene bene diventa un cancro assurdo un incubo in giungla avversaria però non è di livello come quello vecchio ma col reward che gli hanno fatto adesso è ancora viabile potrei giocare persino io mercuri è andato un po calando perché il critico adesso c'è troppo counter verso il critico quindi una build la build sua che diciamo che è sul critico più o meno sul one shot non è ancora al massimo purtroppo quindi è andato un po calando diciamo che si preferisce prendere qualcosa dal spot di mercuri nagia la stessa cosa perché è anche un altro personaggio che un po' di critico ci potrebbe avere bisogno ma magari si può anche si può flexare anche in support quindi sì nemesis buonissimo contro i tank contro un combo specifico che posso dare velocemente pele sansul eh sì forse però non lo so quello al punto se si può giocare da una certa se in realtà non se non ci stanno picchi migliori anche diciamo stanno in mezzo puoi giocarla ma ci sarebbero picchi rimane da tasker stessa cosa è uscito fuori dalla sua della giungla è uscito più che altro l'ho visto perché altro in solo però può essere ancora giocato solo che bisogna fargli la trascendence perché sennò sempre senza vana ravana la stessa cosa più o meno ottimo jungler ser cat allora ser cat è un discorso a parte riguardante la build perché al momento che non ne parlerò della ability ser cat perché di una build specifica perché eh al momento la quando arriverà il 22 marzo la prossima patch non ci cioè sparirà con la build probabilmente non lo so però diciamo che viene giocata tantissimo però viene buildata praticamente bruiser con il martello e cose così con un forge e quindi eh bisogna vedere se il cambiamento che gli hanno fatto sui danni eh la renderanno una pick più offensiva che che il resto quindi non so predirvi se la build che poi dirò si possa applicare perfettamente su ser cat set eh non so l'è sparito un po dalla giungla eh forse come già detto perché gli autoattacchi in giungla adesso non non sono l'ideale proprio appieno si preferisce avere un burst di danni sugli attacchi base anche perché ci sono parecchi ancora storiecchi strumenti che eh permettono di proteggerci da esseri eh nemian lo shell e cose così quindi diciamo che è sceso un po eh rispetto a come era originalmente però può essere ancora giocato solo che bisogna essere molto capaci voi a essere capaci di giocare se sanno secondo me se venisse giocato un po' di più sarebbe meglio perché è ancora un buon personaggio ehm sì no è un buon personaggio se sapete se sapete muovere bene in gioco in cose così diventate abbastanti thanatos la stessa cosa solo che purtroppo molta gente lo gioca semplicemente per fare la scena nel senso prendo la key con l'esecuzione prendo la key con l'esecuzione quando in realtà la vostra ulti è tutto ma è niente allo stesso tempo cioè è un engage barra attacco finale non mi sembra che forza prendere l'esecuzione o la kill e il kill con l'esecuzione scusatemi sto prendendo la voce torna la stessa cosa più o meno di thanatos però potete è un po' più safe pick perché non c'ha eh diciamo che è sceso un po' perché si perviscano altri giocatori però altri personaggi però è ancora più o meno buono mentre tsukuyomi ehm lo vedo più in solo che il resto però tsukuyomi va bene ancora perché c'è ancora un sacco di danni per quanto riguarda bical di giungla di fuori della degli assassin ovviamente uno dei più utilizzati è rilasheng e kilgamesh sai dovete prendere un bicchiere d'acqua ok sono tornato che non con un bicchiere d'acqua ma con una borraccia di un litro e mezzo pieno stavo dicendo dei warrior irasheng e gilgamesh gilgamesh è uno dei migliori jungler che abbiamo visto e poi gli assassin ma anche che irasheng è ancora buonissimo potete flexare anche uno saris in giungla una naiki mulan mage vabbè ao kwang chiaramente è uno dei personaggi che è stato creato per far giungla praticamente secondo me changa se può flexare ibo un altro personaggio che è un jungler ormai praticamente giocatissimo in giungla molto comodo e io vi dico attenzione poseidon io ho fatto una partita come poseidon giungla mi sono divertito una marea ragazzi non avete idea di quanto sia divertente poseidon giungla io ve lo consiglio se volete provare qualcosa di particolare è un missile è un missile in giungla tant'è che adesso tra un po' la prossima patch gli ridurrà il costo di mana di questo di trident che gli aumenta la velocità di movimento non ne vedo che so di gli aumenta la velocità di movimento si gli aumenta la velocità di movimento c'ho ragione non avete idea siete con il demon orb e lo speed buff siete un non lo so una torpedine praticamente nella giungla sparite da una parte all'altra in tre secondi da la solo lane in tre secondi siete già in mid c'è stiano sono cose incredibili e vabbè hunter jungle difficile che li vedo però di quelli che si sono visti c'è a pollo e urla almeno di quelli che si sono visti e passiamo alla build come detto non ho anche usato quelli più usati sono bastet comunque alla fine se vi devo dare i nomi di quelli più ah giustate mi sono dimenticato c'è un jungler che è un un guardian ovvero cabra cam viene buildato pure da i danni puri e massacra la gente solo che non mi piace come cosa perché cabra cam deve c'è bisogno di blink se non puoi blinkare non riesci a prendere quasi nessuno però può shottare parliamo della build allora passiamo passiamo da basta allora la build come funziona la build innanzitutto lo starter anzi no innanzitutto la religia iniziamo dalla religia la maggior parte delle persone inizia con il blink perché vi permette di stare vicino all'avversario se usate anche il potenziamento quello del blink e rallente è ancora più potente eccetera eccetera di solito il blink è quasi sempre un must a meno che non voglia giocare safe voi e prendete magari un bid quasi così se avete magari che so su dagi non lo prenderei io per esempio il blink se non mi serve per forza perché mi posso letteralmente trasportare dal nemico io quindi non credo mi serva per forza però può essere utile e poi dipende tutto da voi cioè io di solito prendo blink e poi prendo un'unità di effetti di controllo bid o se c'ha tanti danni la agis per non morirci subito l'ingaggio e cose così dipende molto da voi però di solito è blink, bid o agis o quello che è il blink diciamo che è un po' quello che rimane più o meno fisso partiamo con l'istart allora la giungla di solito io ho visto solo tutti e tre di start in realtà ho visto ma di solito so per lo più il boombast dagger e il lie of the jungle una volta avevo detto che questo specialmente lie of the jungle era utilizzato soltanto per gli assassin auto attaccher cioè quelli che usano gli attacchi base per esempio anche il gilgamesh lo usa però penso sia una cosa basata su a parte gli auto attaccher molto anche su quello che vuole il giocatore il lie of the jungle permette di anche diciamo difendersi in parte dalla giungla perché permette di avere una ward gratis nel campo praticamente per tot secondi l'unica pecca è che rimane nel campo è quello il problema mi farei l'idea che la ward del lie of the jungle fosse fuori dal campo perché dentro dal campo copre poco secondo me riguarda però vabbè maricam scepter tecnicamente si lo potete utilizzare sugli auto attaccher solo che non mi piace più di tanto a me perché non dà la velocità di attacco che mi serve ovviamente però gli fa dei danni extra early game però mi preferisco utilizzare o lie of the jungle o cose così diciamo che però almeno in giungla il mannequin c'ha più sustain lie of the jungle no perché non mi dà sustain praticamente cioè mi dà sustain oddio mi dà 20 hp5 e 15 mp5 cioè vi dà un regen ogni 5 secondi ogni 5 sui 5 secondi che passano che poi non è un regen in realtà è una cosa naturale un kneel naturale sul tempo però diciamo che il boombas è più o meno quello migliore perché vi permette proprio di recuperare fisso sul su il mostro ucciso ecco quello appunto passiamo al core primo strumento se non hanno healing ripeto se non hanno healing se ci hanno healing voi potete immediatamente fare il brawler se non ci hanno healing si va tranquilla si va immediatamente su uno strumento che probabilmente è il migliore iodon svrat non serve subito il potenziamento l'unico potenziamento usato al momento è quello là come si chiama ferocity però è iodon vrat brawler se serve ovviamente ma ti so io l'ho build quasi sempre perché probabilmente ti ridurre comunque anche il regen dell'avversario hydra o serate allora l'hydra è un discorso un piccolo discorso sull'hydra è stato baffato questo strumento è molto buono però io l'ho visto utilizzare almeno su determinati personaggi per esempio diciamo che quasi su tutti fa bene perché dà anche cooldown reduction e da ridurre di generazione di mana se volete potete farlo subito se no potrete anche tipo se siete messi abbastanza bene di mana e cose così potete tranquillamente metterlo come secondario come dopo il prossimo strumento che è la serata ed edge questo strumento è praticamente usato sempre quando si usa in giungla più o meno permette di ogni volta che fate utilizzare un'abilità che va in cooldown vi permette di darvi potenza extra e lifesteal fisico utilissimo anche in giungla perché vi dà velocità di movimento e vi dà comunque lifesteal sui nemici e quindi diciamo che è un potenziamento temporaneo più usate le abilità meglio è specialmente sui auto attacchi è utilissimo secondo me poi ho detto hydra lemen lamet poi qua dipende allora se avete un personaggio che si basa sulle abilità tantissimo sulle abilità intendo proprio tipo susano sui omimi meh si potrebbe andarci però clina cose così let's seeker let's seeker vi dovete fare un sacco di danni extra specialmente ai tank se avete tantissima potenza ma diciamo che lo farei quarto strumento perché gli serve comunque vi serve comunque un po' di power extra prima di attivare del tutto la passione diciamo sopra se siete sopra il 200 di physical power scala ancora di più l'abilità di questo strumento però comunque è per dirvi buildatelo potete buildare tranquillamente perché vi permette di fare dei danni extra un altro strumento ovviamente è l'iron dine lo strumento per gli assassin per la giungla se avete un assassin che ha una ulti da ingaggio oppure una ulti tipo da controllo di controllo questo vi aiuta un po' tantissimo perché se qualcuno dei possi avversari riesce tipo se io uso su daci uso la ulti per prenderli ma gli avversari usano il bid e scappano nonostante nonostante io abbia mancato la mia ulti si attiva la passiva e quindi il mio avversario lo posso vedere dove sta e posso inseguirlo comunque quindi è utile per questo anche specialmente per l'extra velocità di movimento e il power che dà praticamente vabbè al volo parliamo al volo di questa build su bruise e su sercat roomforged non lo usano non so perché lo usano non mi piace a me come strumento le roomforged si gli fai fare più danni gli fai fare più danni sui nemici gli fai fare più danni sui nemici che sono sotto effetti di controllo tranne knockback blind e grabs quindi potrei anche usare su oros per esempio oros support a volte l'ho visto buildare però non mi piace a me fisica non mi piace proprio a me di strumento però può ancora andare bene anche se penso che col nerf forse scenderà un po' di solito se volete buildare un buon bruiser blackthorn andrebbe anche bene perché vi dà cooldown reduction e mana extra oppure c'è chi si fa gli scudi gli scudi per esempio non li farei come primo strumento se volete fare bruiser perché vi servirebbe un buon bruiser prima un pelo almeno come giungla prima un pelo di danni e poi un po' di difesa quindi se ho un voice shield come terzo o quarto strumento gladiator andrebbe pure bene ma c'ha bisogno di un sacco di difesa prima di riuscire a dare il meglio di sé shifter va bene perché vi dà un sacco di difesa e danni quindi diciamo che difende da voi però di solito ultimo strumento se state andando tranquillamente sullo snowballing quello che vi pare blood forge perché ogni volta che prendete una kill vi dà uno scudo e vi conviene così e da notare una cosa i jungler la maggior parte dei jungler si builda puramente danni per questo io non sono capace di usarli più di tanto perché beh io gioco di solito tank quindi non sono abituato a tirare tutto giù e di non morirci subito quindi è una questione di un po' complicata per quanto riguarda Riot Attacker non c'è molto che cambi Noyotun andrebbe sempre bene diciamo però diciamo che iniziano con le catania non mi pare che le utilizzano in più si buildano a velocità d'attacco alla fine dovete pensarla un po' a una velocità d'attacco particolare stonecut in edge stonecut in sword il crusher soprattutto come uno strumento andrebbe benissimo il crusher se siete autoattacker vi permette di fare un sacco di danni in più e vi da anche velocità d'attacco poi vi fate ovviamente ah tra l'altro non ho parlato del titan's bane ma c'è sta nella build come strumento finale perché vi permette di fare un sacco di danni extra per i personaggi che hanno danni fisici stonecut cantine sword la serata edge sempre potete farvi tranquillamente anche gli strumenti di velocità d'attacco la vinsai l'esecution l'asi se vi serve comunque è come se buildasse un hunter all'interno della giungla praticamente però è coppa a corpo è quello il punto dovete essere stati anche voi è coppa a corpo passiamo velocemente a almeno una build jungle per i magici più che altro prendo posidon perché è quello che ho provato di più diciamo allora io ho utilizzato il doom orb perché mi piace tantissimo questo strumento mi permette di essere più veloce cosa sia anche a tier 2 quindi non mi serve rushare immediatamente la tier 3 però non avete la sustain è quello il problema diciamo che un po' di sustain serve se siete buildando per esempio a wang ovviamente servono gli strumenti da velocità d'attacco demonic grip hecati lo di solito è hecati demonic grip e poi c'è sta gli altri strumenti tipo polinomicon cose così faccio prima dirvi scrivete i commenti di personaggi e poi potrei dirvi che cosa dire perché non avendo molta esperienza non posso aiutarvi in quella cioè non è che non ho esperienza ce l'ho un po' di esperienza però al di fuori non vado al di fuori delle pic strane perché non avendo esperienza in quelle sono capace eterial cose così per esempio l'avevo buildato praticamente mago praticamente avevo fatto l'unico strumento strano è la tombor poi gli avevo fatto spirit of isolation per avere più il cooldown e poi stavo andando verso l'ho perso ovviamente con la partita perché vabbè non commento poi stavo andando sul pitagoran diciamo che un po' di life seal extra come jungler vi conviene perché ovviamente non potete curarvi con i minio ma vi curate con i mostri ecco più che altro in realtà utile ci serve e cose così dipende molto da cosa state giocando voi e niente vabbè spero vi sia stato utile questo video sul meta del jungler al di là della season 9 attuale quindi poi farebbe anche cambiare fatemi sapere la vostra se vi è stato utile e niente ci vediamo al prossimo per ragazzi vi ricordo che care se vi è ricordo di segnalare vi ricordo con gheppate la mano sbocca per il modo il prossimo video è l'ultimo finalmente e niente bye bye ciao